Allora io sono Marco Scorone, signore e signori bentornati nella Vulcano Block, nell'ultima puntata abbiamo finalmente sbloccato il capitolo 4, cioè abbiamo finito il capitolo 4 e ci apprezziamo verso la fine del pacchetto, ovvero il capitolo 5 è sempre davvero complicato dove alla fine c'è il Vulcano Master con tutta sta roba, c'è anche la giraffa, ci sono il cuore del faraone, non so che davvero dovrebbe essere tutta sta roba ma va bene lo so Wow, fighissimo, allora ragazzotti nell'ultima puntata abbiamo fatto questo ciccio ciccio qui, il Nimbius Heingot Finalmont, è stato bellissimo, che ci ha permesso tra l'altro di craftare, no scusate il Midnight Gioiello ci ha permesso di craftare il Nimbius Heingot che dovrei avere da qualche parte là sopra e questo Nimbius è un po' Strunz perché effettivamente per crearne degli altri dobbiamo sacrificare lui stesso, andiamo a vedere Nimbius, Nimbius, ah no come cacchio degli anni, scusate mamma mia quanti lingotti c'è stato dentro lo sto pacchetto, è incredibile ecco, Nobius, Nimbius, 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 Nimbius Nimbius, oh eccola qua per fare questa qui, la Dust con il lingotto poi la possiamo mettere all'interno di questo ok, trasformare gli Endersteel in altri 8 lingottini e così via, quindi e gli Spolenzialmont quindi andiamo a prendere dove l'avrà messa, non lo so, forse qua dentro eccolo qua ah no, ma già l'avevo fatto, ma sono sono un bravo guaglione chi è un bravo guaglione? vabbè, comunque adesso facciamo così facciamo così voilà facciamo di nuovo così e otteniamo una polverina così per non sapere ne leggere ne scrivere andiamo senti qui che ci stanno i mostri all'altare della Solus giusto? yes e andiamo a fare questo crafting qua così nel caso ci serviranno signori piano piano lui ce l'avrà tutti gli mostri qua sotto che sentite servono appunto per dargli lo speed per 4 però non ci sono gli oscillating gear e questa cosa mi un po' mi fastidisce molto dove sono? ah, fangulo scusa ammettiamoceli, no? ce li mettiamo tutti dentro perfetto adesso è 16-16 potremmo fare i nobius per aumentare l'efficienza però per adesso sinceramente dobbiamo spregarli poi piano piano li facciamo allora andiamo a vedere qua sotto oppela oppela così ci allontaniamo anche da quel brutto rumore le quest iniziano a farsi interessanti prima di tutto per arrivare a questa congiunzione ci serve una nether star e lui dice se usi il patato manilla ti prego non farlo vicino a casa tua e c'ha ragione c'ha molta ragione questo tizio perché caspiterina se evochiamo un wither qui succede un casotto incredibile ora io non credo che ci siano blocchi wither proof in questo pack wither dust block non credo proprio onestamente non credo quindi come facciamo ad andare lontano e a costruire comunque senza dover tirare una fastidiosissima linea beh semplicemente non possiamo quindi o costruiamo la cacchio di linea non c'è niente che mi costruisca da lontano non c'è un angel block che fa al caso nostro non posso neanche versare l'acqua se non c'è un blocco dove cliccare quindi o il metodo vanilla dicevo oppure andiamo a vedere la tenestare si può ottenere in altri due maniere uno nel chemical combiner col titanio l'idrogeno ok il luthien che si fa col purple block per c'è uno soltanto e lui ne va alle 64 di nuovo il titanio col titanio noxide e va bene l'avevamo visto l'altra volta con il nero il dispromium ragazzi cioè come potete capire una grossa rottura di cavolo per il resto c'è il secondo il terzo metodo nell'analysis chamber che però come potete vedere tutta sta roba cioè l'analisi del star è lo 0,01% voi sapete che io con le percentuali non sono molto 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 fortunato quindi mi sa ragazzi che vado lontano lontano e che palle fortunatamente ragazzotti ho costruito una bella linea laggiù grazie al mio building gadget che mi ero scordato quindi laggiù siamo pronti per configgere il wither però per sconfiggerlo dobbiamo prepararci ho inciantato questa bestia ragazzi c'ha un infinity 6 eh scusate un power 6 infinity boost flame ragazzi dovrebbe rompere i sederini però l'armatura non mi convince quindi ho visto questa che in realtà è semplicemente estremamente figa d'accordo quindi andiamo a prendere i rock core e andiamo a metterci le shard queste qui bianche ce ne serviranno 4 per fare questo skull spero di avere dei rock core non ce li ho ma li facciamo subitissimamente li andiamo a mettere qui molto bene ci mettiamo questo e mi pare di aver visto del glass perfetto yes a questo punto possiamo fare anche così a questo punto se lo sbaglio possiamo fare anche così vediamo un po' vai Kiko trasformati trasformati yes voilà ragazzotti aspettiamo che tutto quanto si trasformi in ossa very good dai pure tu ciccio dai che ci servi dai che ci servi perfetto e con questo scusate e con questo ci facciamo lo skull è un'armatura praticamente equivalente al diamante però sai che è più figa quindi perché no perché no allora per questo ovviamente ci servono le string quante string ho dovremmo essere abbastanza tranquilli me ne faccio un pochino oppela ce ne fa due vediamo quante ne faccio speriamo abbastino bam no scusate questa qui wow cioè è anche fighissima effettivamente ora che ci penso bam ok bam perfetto dimmi che ci siamo ragazzi diciamo addio a questa armatura bruttissima e l'armatura del teschio fica davvero davvero figa mi piace assai non c'hanno effetti potenziati ho cercato un pochino le armature fighe ma non sembrano essere chissà niente di che tranne una che è spaventosamente OP ed è la ah questa qui è il vecchio tentativo mi è uscito un po' la merda e l'ho buttato infatti ho perso tutti i 90 livelli quella OP super OP chest plate è questa qua scusate questa qui più 12 e più 5 però si fa con le sfere del drago e quindi meglio evitare detto ciò ci serve anche una spada per il corpo a corpo e io andrei sulla hand forge sword che ci da 20 di danno naturale niente niente male quindi lasciamo perdere tutta sta roba bam bam signori giù nel canestro ce l'abbiamo è lei perfetto è il momento ah io mi divento che qui non volo lol ah no è il momento però se non prendiamo ragazzotti le cose non funzionano quindi miecare teste del wither grazie miecare sul sand molto bene adesso dobbiamo vedere se ci riusciamo a batterlo sto witherino se io attacco così sembra che ce la faccio quindi io potrei muovermi mentre attacco ok questo è buono questo è davvero buono andiamo a costruire la nostra struttura e speriamo ovviamente aia ma si tolga per favore speriamo di non peccare di presunzione let's go perfetto no 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 non ti avvicinare ok abbiamo appena capito che aia 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 ok ragazzi scusate sono molto concentrato via via fuga 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 male male molto 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 male ci rompe il buco ragazzi perché perché sfonda la piattaforma e noi non riusciamo a sparare attraverso la broma speravo che volando si potesse sparare invece un problema di minecraft fa sì che ecco mi prenda fuoco la cosa mannaggia cari ragazzi riproviamo ma questa volta con un anello che ci dà rigenerazione eccolo qua è lui speriamo che funzioni vi avvicino lentamente quanto lentamente dov'è eccolo là il guiderone allora a questa distanza ma lo sapete qual è l'altro problema ragazzi è che il merda ora che ci penso dove me la lascia la night star è un problemone raga è un grosso problema porca puttana però so qui che si sta prendendo tra l'altro se venisse qui vieni vieni dove sei dove sei ops wow questa è tosta questa è tosta davvero ragazzi mi sto avvicinando spero di non cadere nella lava a colpo per colpa del noback perfetto si ti prego di big e black no 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 è cascata di sotto raga è cascata di sotto va bene ok allora no il nostro amico possiamo rompergli il culo devo fare però un'enorme scatola di qualcosa di ossidiana che non mi distrugge a parte l'ossidiana me la distrugge lo stesso ai 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 merda merda ok ragazzi proviamo a vedere se enchantando la nostra armatura possiamo ottenere qualche bonus di protezione dal nostro guider per farlo ho fatto una enchanting table e due mana pylon questi mana pylon valgono come le librerie del buon minecraft quindi se mi metto qui e qui tecnicamente noi dovremmo poter incertare sta roba vediamo un pochino ok interessante però non abbiamo i lapiscazzoli lapiscazzoli a parte un po' vediamo un pochino se abbiamo dei libri incantati delle cose magiche non ce ne abbiamo neanche se t'ammazzi molto molto male enchant niente vabbè ragazzi peccato 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 vediamo qua sopra ahia che dolore roba incertata ce l'abbiamo blast protection pochissima robetta se devo essere sincero non abbiamo tra l'altro niente che ci possa permettere di togliere l'incantesimo per metterlo da qualche parte opala dunque ci tocca avere arrangiarci con quello che abbiamo mettiamo la chestplate mettiamo questo l'unico incantesimo posso mettere protection 2 ad esempio adesso prende anche unbreaking di qua posso fare blast protection da quest'altra parte ci da projectile da quest'altra parte ci da unbreaking ragazzi siamo davvero nella cacchina per quanto riguarda i livelli se no avresti sprecati tutti su sta cazzo di questo il pollo diablo vabbè quindi devo pensare un attimino a come prendere esperienza in questo pack ragazzi riproviamo riproviamo spero che non si sposti alternativamente dobbiamo andare a utilizzare un altro metodo che c'è dovevo fa quindi andiamo a prenderci la vita andiamo a fare così adesso ci sarà l'esplosioncina lui è troppo distante per essere per aggrarmi facciamogli un pochino di danno ecco già che è sceso sotto non va bene già che è sceso sotto non va per niente bene ecco ma ha già sfornato tutto dov'è no è andato direttamente sotto raga dove è andato no 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 via è arrabbiatissimo è arrabbiatissimo madonna che dolore madonna che dolore oddio fa malissimo niente ragazzi non riesco a controllarlo purtroppo è la prima volta che mi capita un pack in cui il guider non ha non ha blocchi moddati che 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 interferiscono con lui che cazzo dove ho bisogno dell'esportato scusate che paura che lagga anche mortacci sua davvero ovviamente il tizio si è assolutamente ricurato il bastarda sfonda la lava vorrei attirarlo in qualche maniera però come potete vedere è un infame schifoso 10 mannaggia e boh e come faccio vedete come faccio a sconfiggerlo l'unica soluzione che mi viene in mente è provare a sfondarlo sotto però sotto è impossibile cioè come fai proviamo ad aggrarlo vieni merdaccia oh oh aia no vabbè ragazzi ma mi è arrabbiatissimo sto per morire sto per lasciare le penne se mi insegue la fine speriamo di no ok uh è il primo fail incredibile della mia vita cioè sul video wow accetto la sconfitta ragazzi accetto la sconfitta malgrado tutto non riesco ho cercato dappertutto magari mi sfugge qualcosa magari non conosco le modi in questione però cavolo non mi viene in mente nessunissima maniera per sconfiggere il withering in maniera scialla e laggiù speriamo non si avvicini non decide di avvicinarsi io anche a mettere tutto protection comunque lui con il withering mi manda pochissima vita onestamente non so che dirvi potremmo potremmo ma il problema è che anche se mi risolvo il problema della vita la nether star mi casca di sotto a meno che effettivamente io non faccia un anello il ring of magnetismo dov'è? eccolo qua si 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 ok soul steal vediamo un po' oddio quanto ce l'ho poco vediamo un po' ragazzotti allora con questi quattro più altri quattro se non sbaglio vediamo dunque io faccio così 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 e poi un glass panel giusto? ed è questa manalense questi li buttiamo dentro poi bamb bamb fangulo ce l'hai non lo vedi scusatemi no non questo sono tutti uguali eccolo qua bam giù nel canestro di nuovo bam abbiamo un anello perfetto però mi servirebbe un tablet il tablet è questo roba qui che posso fare fantastico wand che dovrebbe caricarmi sto ciccio ciccio ok l'ho messo nella bubble andiamo ok grandioso ma funziona senza mana? davvero funziona senza mana? ora la domanda è nel momento in cui sdroppa facciamo in tempo a raccoglierlo oppure no? vediamo secondo me no proviamo però ad avere la bandina col mana ma no 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 non fa assolutamente in tempo anzi ci mette davvero davvero tanto niente purtroppo neanche questa ragazzi che vi tengo da dire che vi tengo da fare peccato era un'ottima idea e dunque ci rimane il metodo noioso sinceramente questo è un fallimento su tutta la linea però dobbiamo craftare questo ragazzi dobbiamo craftare il chemical combiner quindi oh my god oh my god what fuck sul serio? ok devo fare delle road queste qua e riempirle della mia vita stinkete stankete stunkete anche quest'altra stinkete stankete e staratunkete le buttiamo dentro ok ora ritorniamo a fare il coso condenser va bene userò netherstar madonna santissima poi dobbiamo fare questo che diventa il secondo il secondo tier no che diventa il terzo tier sorry ragazzi ma qui c'è gran confusione madonna aiuto ok questo è il medio perfetto e i soulsteel ce li ho qui va fangula fammelo subito ok e uno è fatto dopodiché dobbiamo fare i mystic iron block ti prego dimmi che ce li abbiamo fantastico e questo coso qui ok allora che cos'è la dark ah no la dark matter l'avevamo fatta l'elder l'elderwood ve lo ricordate l'elderwood l'elderwood si faceva così perfetto quindi andiamo a cuoquerlo senza nessun problema il resto invece credo ci sia un problema grande ed è sempre lui mannaggia mannaggino facciamo così va tagliamo la testa al toro rompiamo questo opera e togliamo pure quest'altro tanto ormai ooooh parcheggia scusate una piccola imprecisione lo rompiamo lo stiamo rompendo l'abbiamo rotta marion fire na 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 ok adesso tutto il cerciolo non finirà sempre qua dentro perché davvero ragazzi è fatta male sta mod la dynamics non è proprio il top del top quindi ritorniamo a noi barabim barabim no barabim barabim barabem eccolo qua 1 2 3 e 4 oh signore si ce la possiamo fare che cazzo oh è vero la runa la runa è l'ancient gravel nel liquid souls e il liquid souls è il misterius mio nonno molto molto bene quindi signori dobbiamo andare a prendere un po' di un ancient gravel scusate giusto oh ce l'ho un pochino perfetto dobbiamo fare questo aspettare che questo diventa liquido buttarci l'ancient gravel e prendiamo una runa quante ne volevi tastate abbacchio incredibile mmm mmm ah no ce ne da 4 ma ah eccola qua perfettissimo la rompiamo ecco la runa voilà buttiamo dentro meno male madonna che crafting e pensate che non è finito qui eh bam ce l'abbiamo bam dov'è the dark matter che figata sta dark matter cioè è brutto che viene dall'albero però è figa abbiamo il runic template e adesso signore e signori io ne ho sento il chemical ah 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 combiner che togliamo cioè togliamo questo e mettiamo questo qui ok adesso questa qui è il target che deve fare il problema grande ragazzi è che non otteniamo quelle cose da questo ma le otteniamo dal chemical dissolver che ti prego di che ha un cutter più facile sei stronzo vabbè regà mi rimetto a fare queste cose eccolo qua ragazzi dai non ci ho messo poi troppo tra l'altro era anche una questina ah vedi la prima e ci dà 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 uno speedy hopper ma te posso in ammazzare il latte guarda eh e ci dice fai il cadmio ok va bene lo faremo ma prossimamente per adesso accidenti quello che è cascato lo andiamo a mettere qui gli diamo l'energia andiamo a prendere quest'altro che mi è costato un sacco io sono convinto di volare come è successo il jetpack ma non è così c'ho solo la scopa pezza senza scopa e beh senza scopa e volevo dire scusa youtube scusa allora ragazzi netherstar quello che ci interessa è una storia strappa storia intanto l'idrogeno è facile lo otteniamo da un sacco di cosine ma penso che la più facile sia l'acqua quindi noi avevamo fatto il liquifier ma da qualche altra parte avevamo messo avevamo messo un coso vero come si chiama come si chiama come si chiama come si chiama l'atomizer maybe I don't know il problema è che serve sempre energia a tutta sta roba quindi devo fa un sistema un complicato sistema di specchi e leve vediamo eh 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 si è lui è lui è lui quindi un bel secchiello perfetto e iniziamo a fare su e giù perché perché ci tocca diciamo che questo qui è stato semplice dai acqua qua dentro eccola qua l'acqua 2O e infatti si molecula in idrogeno e ossigeno l'idrogeno ce lo prendiamo e ragazzotti andiamo a mettere questo qui questo qui questo qui questa parte facile eh questa qui e questa qui ma se volessimo andare a rivedere un attimino la mia nether star andremo a scoprire che ci vuole il dispronium il lutetium il titanio e il mandelium il titanio si ottiene da il titanio oppure dal titanium oxide che è il titanio oppure dal lingsac quindi siamo di nuovo qui signori col problema degli lingsac ma è incredibile ma è davvero una cosa terribile però dovrei avere gli squid vi ricordate forse forse no 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 abbiamo proprio fatto 75 ma io mi amo ma quando faccio così io mi amo ragazzi fermi tutti io Miami quasi dobbiamo metterlo nel qui dentro eccolo guardate quanto tritanium ragazzi meraviglioso quindi se rismolleghiamo il titanio oxide otteniamo il 2 di titanio quindi in realtà il titanio ce l'abbiamo è stato facile è stato facile bam si basta tutta sta roba che cazzo guardi la metto qui poi ci risentiamo prossimamente va bene arrivederci arrivederci et voilà bene bene siamo a metà dell'opera vi piacerebbe ritorniamo su nether star perché secondo me adesso inizia a diventare difficili le cose testa del no aspetta aspetta solo però me ne da 32 me ne da 32 io ho le skull queste qui due ce le ho perfetto le smollegoliamo e otteniamo 64 buono 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 l'ultimi due il gigio gigio mi viene dato da l'energo mamma mia l'energo ma grande grandissimo eccolo qui è lui aia che dolore che botta incommesurabile oppera perfetto fosfo dispros ah il dispros prima però ce ne da pochissimo quindi ce ne servono un altro stack e un altro stack due stacconi vabbè vabbè se può fare se può fare col fosforo facciamo qualcosa uh la lost grazie molto gentile molto gentile vedi uno di qua uno di qua no me ne servono un altro po' sempre 27 47 64 ragazzi ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo grande 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 e questi componenti li metto qui mi ricorda davvero davvero la space craft sta cosa raga tanto ecco perché non la volevo rifare però a mali estremi l'ultimo è il purple block oppure il luthien quindi no il problema di questo è che il purple block ce ne dà uno al 50% e lui ne vuole 64 ragazzi non c'è un fucking dai non c'è assolutamente un altro modo ah però posso farmare questi uh sexy sì ok questo buona sapersi perché dovete sapere che io nel tempo ne ho dovrei aver rotti un pochino quindi chorus ne ho solo nove ah perché ci ho fatto questi posso spacchettarli no vaffanculo va vaffo vaffo vaffa vaffa quindi andiamo a riprendere sti fregni qua sopra eccoci qua perfetto rompiamo lui aia rompiamo lui rompiamo lui e rompiamo lui scendiamo per di qui e possiamo rompere questo ok ne farmo un pochino e torno subito da voi anche perché ogni porta uno di questi è davvero davvero improponibile bam e bam e anche bam aspettiamo fatto un paio di volte andiamo a craftare questi bei blocchi mortacci mia chissà se ci abbastano chissà se no speriamo di essere fortunelli ragazzi ce ne servono 64 io già vedo che ad occhio non ci arriveremo 54 54 54 e tocca aspettare oh statisticamente ci dovremmo essere quindi li metto nella super fornace vado a fare un altro po' di questi ragazzotti 20 pezzi che dio ce la vanno in buona no 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 questo questo oh yes signori per una via o per altra ce l'abbiamo fatta grandi grandissimi nessuna reward brutto figlio di una brutta persona quindi comunque abbiamo fatto questo abbiamo fatto quest'altro questo nessuna reward di nuovo i musical plant seed si si no che cosa danno i musical plant seed will grow will grow when simulated by another block preferi a chonky beats so put your eye on top of something guard like stone ok what the fuck che cacchia di ma chi è che si è fumato cioè se dove si è fumato qualcosa il tizio perché sul serio raga come fai a pensare dei semi del genere deve esserci della droga però non diciamo droga perché sennò dopo twitch mi demonetizza quindi noi non lo vogliamo fare buttiamo dentro la nether star andiamo a prendere a vedere il jukebox come si chiama no come si chiama questi ah vedi vuole il jukebox scusatemi va bene ho sbagliato pensavo che volessi il not block cos'è la tromba il trombo il trombatorione vabbè allora no niente mi sono sbagliato e ok si d'accordo poi i mary jane quali erano i mary jane no ah no ce li ho ragazzi i mary jane ce li ho grazie 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 a tutti quanti quindi 4 mary jane e 2 normis e 4 normis ok d'accordo non ricordo la descrizione però voglio una note block ok quindi ho fatto il jukebox giusto e il note block giusto andiamo a metterli qui questi che cosa sono i broccoli quindi 1 2 3 4 5 più 1 2 3 4 signori abbiamo i semi dei questi questi semi qua e qui dice che se metto il jukebox il note block vicino a un blocco di stone che lui preferisce vediamo accetto questo oh è vero ah no gli basta star vicino cosa cazzo what 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 ma che spettacolo cantano suonano no vabbè regà ma ve ne date conto di quanto quanto cazzo può essere interessante una cosa del genere è un metodo fighissimo per farmi avere i i cosi i dischi è davvero davvero carino se ci metto questo ogni 10 non è velocissimo però perché questi no adesso beh vabbè d'accordo non ho capito a che ci serve però cioè grazie del tuo jukebox come faccio come siamo arrivati qui no aspetta non mi dire che ragazzi i music disc ci danno il cadmion che come sigla è cd cioè regà vabbè ma tu stai fuori stai totalmente fuori bam bam e bam eccoli qua i cd vabbè 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 fa troppo ride sta cosa perché con questi tre oggetti quindi per forza il cadmion dicevamo il cadmion ok viene da cd quindi se io faccio così e metto il cadmion no devo fare u fare così mettere questo e voilà signori stiamo craftando il cadmion quanto me ne vuole nove pezzi nessun problema andiamo a buttare oh ottengo anche il lead quindi per vie traverse chissà perché soltanto uno qui me lo fa beh stunc tunc 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 non se gli dà fastidio no cresce c'è soltanto uno ok stanno crescendo tutti quanti vai se sono ripresi se sono ripresi perfettissimo regà bam 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 datevi datevi tutti i campadisc qua va bene d'accordo buttiamoli tutti dentro oh e là oh e là e ok questo lo liberiamo ancora uno allora butto tutto via tranne il mio amico cadmio è venuto anche un po' di luthien voilà e voilà signori ce l'abbiamo 10 bam no rewards thank you music disc e canti so ok quindi il cadmio più il blocco di cadmio portaci tu il blocco di cadmio eh il blocco di cadmio quindi ne servono un altro pochino ci permette di creare questo coso il dark nether star con così eeeh che sta figata lo scarabbeo di christophe fa troppo ride sta cosa dai dai ne basteranno che dire il problema è tenere da poco di cd però vabbè dai allora rendiamo o per farlo per l'ultima volta spero buttiamo dentro buttiamo dentro buttiamo dentro buttiamo dentro eccolo qua 64 quindi dobbiamo arrivare a no 17 ce ne serve ancora un pochino perfetto dove sta eccolo qua 19 quindi sbranked sbranked facciamo voilà e facciamo i blocchi di cadmio miei cari 2 quindi dark nether star dopodiché vuole l'obsidia 9 got che ce l'abbiamo e vuole il rutenium il rutenium si fa col rutenium che si ottiene dal fusion reactor dal fission reactor cosa quindi scinde 44 44 e 47 si dovrebbe scendere no si è la fissione questa non è la fusione che si fa con questo cazzo di incredibile oh mio dio oh mio dio ragazzi io vi devo sallustrare prossima puntata dobbiamo fare un fusi un reattore a fissione per creare questo questo materiale che sinceramente alternativamente come faccio tutti gli elementi eccetto nitrogene possono essere creati nel fusion multi blocco quindi dobbiamo creare sta struttura multi blocco per ottenere il rutenium per poi fargli 16 me ne da i ruteni una ingotta con cui fare la dark che ci permette di fare il drago arcanus chapter la dark nether star blocca che oh mio dio va bene d'accordo va benissimo oppure lo scarabbeo dell'autum che non conosco io vi salustro perché faccio i video troppo lunghi lasciate un pollice su per supportare il vostro arcus cron regà bella pe voi ciao